Lo street control, forse invocato a gran voce, ora c'è, però a quanto pare voi avete deciso che le cose non stanno così belle come si dice? Noi intanto non siamo contrari all'attuazione di questo servizio, ma siamo favorevoli, però in una maniera diversa rispetto a come il Comune si sta comportando. Nel senso che vogliamo che sia supportato da una serie di servizi previsti dal Codice della Strada, previsti quindi dalla legge, e che il Comune di Alcavo non ha mai attivato. Parliamo di segnaletica mancante, parliamo di semafori che non funzionano, parliamo di parchimetri, parliamo quindi di colonnine. Cioè dare l'opportunità, dare la possibilità a tutti i cittadini di poter trovare un regolare parcheggio e di poter avere, per così dire, l'alternativa. Noi chiediamo addirittura che alcune aree dove ci sono i cosiddetti parcheggi liberi, che il più delle volte servono solo per poche persone, per esempio Piazza della Repubblica, dove ci sono un mare di parcheggi che sono sempre ostruiti da auto, che si fermano la mattina e sono ritirati dagli autisti la sera, che ne so, parlo di tutti i dipendenti del Comune per esempio, che utilizzano questi parcheggi. Allora mettiamo lì i parcheggi a pagamento. Insomma, lo street control ha provocato non poche proteste, una previsione che si sta raccogliendo con delle firme dei cittadini nei vari esercizi commerciali. Ci sarà sicuramente un controllo, anche se va ripetuto, che lo street control attualmente è utilizzato dalla Polizia Municipale per controllare la mancata revisione dell'auto e la mancata assicurazione. Io lo chiamo cassa, fare cassa. Beh, in quel luogo se il sindaco di Alcamo, che si è dichiarato sorpreso per l'iniziativa che noi stiamo facendo, era presente, se fosse stato presente a quell'iniziativa, a quell'incontro del primo marzo, si sarebbe reso conto di tutte le risposte che non ha dato l'assessore Butera a quello che erano i cittadini, alle domande che facevano i cittadini. Di conseguenza, questo fatto che il sindaco si dichiara sorpreso di questa nostra iniziativa, io voglio dire al sindaco ci siamo noi. Lo invito perché noi non facciamo politica, noi facciamo politica sindacale. e noi siamo disponibili a collaborare con l'amministrazione. Avete visto se ci sono firme, se sono tante o poche? Devo dire che sono parecchie le firme che hanno raccolto i commercianti, perché abbiamo divulgato questa notizia quindi come passaparola. È chiaro che tutta una persona non può fare. E devo dire che c'è stata parecchia partecipazione da parte dei commercianti stessi e anche dei cittadini. Prima tu devi educare il cittadino nel rispetto delle regole e poi se sbaglia, chiaramente la multa è giusta perché la punizione va data. Però prima bisogna educarlo, aiutarlo, perché il fatto che ci sia il far west fuori, ed è vero, dico se noi usciamo lo vediamo con i nostri occhi quello che c'è, ma non è colpa nostra relativamente il buonsenso civico. È giusto che i cittadini lo abbiano perché ci sono delle regole da rispettare. Ad oggi vediamo che il Comune purtroppo ha dimostrato fino a questo momento che non ci prende molto in considerazione, perché anche alla riunione del primo marzo non tutte le associazioni di categoria sono state invitate alla presentazione. Abbiamo dovuto fare una richiesta, una sollecitazione sia al sindaco sia all'assessore e poi ci hanno invitati.